Signori buongiorno, il nostro pezzo forte, rollé di capretto con speck, parmigiano, appena girato si inizia già a sentire un odore pazzesco, già operativi per le cotolette, fresche ogni mattina, ed ecco la nostra salsiccia con fior di latte di vico, punta di coltello originale, appena fatta freschissima, anche arrostita, va bene, basta non bucarsi. Signori il rollé è pronto, se rimanete in città non perdete questa occasione, allora signori siamo pronti, eccoci qua, carrellata finale, pronti, ormai non viene ancora più le cose, le conoscete già, ed eccoci pronti per l'insalata. Qua c'è una cappa di umidità che fa faula, il 95%, qua rischiamo di cadere a faccia a terra, il ferro scende in maniera verticinosa, quindi bistecca, bistecca, bistecca. Beppe, ma voi lo sai domani che ho perso? Come oggi e domani, tutta la giornata, acqua pesante, pesante. Bene, 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 bene. No, ma io vado a mare. Ma dove va, io la testo di un cavallone a GF. Go come bene, bene. Molto Who perciò? Partiamo la guarda, vedi la pazzetta. Ho, rituro. Ti ho detto io, ma voi.